qual è stata la gara più emozionante per te e cosa hai provato ovviamente il mondiale di catania che ho vinto che è stata la giornata perfetta per me di schermo emozionante ero terrorizzato all'inizio perché c'era tutta catania che mi spingeva e questo ti dà anche tanta pressione però poi si è incastrato tutto bene alla fine è stata la giornata perfetta per me quella che ricorderò sempre come come quella più bella mentre paradossalmente quella più brutta è stata l'olimpiade che come pressione mi ha un po bloccato ed è stata difficile dall'inizio alla fine però sono fortunato di aver vissuto entrambe le esperienze